buonasera a tutti dolbo invenuto all'amico antonio luigi palmisano ricercatore docente universitario affascinante comunicatore di protista ma soprattutto grande antropologo e geniale mediatore di conflitti anche a livello internazionale carissimo antonio con quale dei tuoi molteplici titoli ed interessi ti piace maggiormente essere identificato dai nostri amici e valdo intanto grazie grazie a te grazie per le tue definizioni riguardanti la mia persona ma imprecise troppo generose ho un titolo fra gli altri che quello di professore ma ma se mai dovessi essere definito titolato in modo che a me risulterebbe gradito questo è pensatore d'azione pensatore d'azione qualcuno che si sforza di coniugare il pensiero e l'azione bello bello questo aumenta però il tuo fascino pensatore d'azione quindi hai voluto metterci un ulteriore carico da 11 sulle mie definizioni bravissimo senti antonio tu hai fatto della ricerca sul terreno soprattutto all'estero la tua ragione di vita ma le tue radici che io sappia sono pugliesi ed è in puglia che normalmente risiedi quando sei in italia ti va di parlarci delle tue radici familiari dei tuoi studi delle tue scelte lavorative professionali ed accademiche la vicenda iniziò molti anni fa quando mio nonno decise di far venire mia madre in questo paesino dove ora vivo a partorirmi cioè a partorirmi il nome del paesino il nome del paesino è carovigno in provincia di brindisi quindi tra un po' inizia un pillegrinaggio naturalmente ai tempi da milano si era un viaggio che durava un paio di giorni in macchina non si poteva fare in una sola tratta e quindi mia madre che era una figlia molto rispettosa dei desideri del padre mi portò con sei qui e io nacque in casa del padre e cominciato a viaggiare già nel grembo di tua mamma sì molto e continuiamo così migliaia di chilometri ogni anno via vai fra milano e questo meridione d'italia prendendo le tante strade che allora c'erano passando per l'adriatica oppure allungando come chilometraggio ma diminuendo i tempi quando l'autostrada fu poi costruita sai da Napoli eccetera eccetera così così iniziò la vicenda quindi sei nato a milano se ho capito bene sono stato concepito a milano io sono nato a milano e sei stato portato a nascere in puglia beh è bella è una bella storia già questa e poi che è successo e poi è successo che a milano ho fatto il mio liceo siccome ero un bravo ragazzo un bravo bambino decisero di mettermi in un collegio sì sì beh all'epoca ero davvero un bravo bambino sì ma all'epoca si mettevano in collegio i bambini molto discoli o i bambini molto dotati eh non lo so quale dei due casi fossero tu hai il discolo dotato non ero il discolo dotato comunque mi misero in questo collegio dal quale mi espulsero dopo sette anni mi espulsero poco prima che ti sei fatto espellere dal collegio penso di essere stato in primo caso dai salesiani fu io espulso caspita eh per comportamento inappropriato diciamo allora ero un piccolo leader della contestazione e c'era c'era un professore di filosofia e storia che giustificava l'inquisizione questa era una cosa che io non gradivo noi non gradivamo e siccome ero presidente dell'assemblea degli studenti avevo sedici anni e mezzo diciassette eh proposi di firmare una una carta con la quale una petizione con la quale chiedevamo eh l'espulsione di questo eh sacerdote filosofo storico dall'istituto per eh per aver giustificato l'inquisizione e naturalmente in quanto presidente io pagai cara questa iniziativa certo 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 e quindi e fui espulso io era una lotta impari eh decisamente impari ma non ho mai imparato sta lezione delle lotte impari beh mi fa venire in mente mi fa venire in mente che ehm abbiamo evidentemente molte cose in comune perché io mi sono eh diplomato a del liceo classico a diciassette anni e io avrei voluto fare all'università o chimica o geologia mentre mio padre che era ufficiale era un pilota militare dell'aeronautica e i miei genitori volevano che andassi in accademia e io volevo fare l'università loro volevano giustamente che andassi in accademia morale eh si creò la situazione per cui o io facevo quello che dicevano loro o mi avrebbero cacciato di casa io non accettai di andare in accademia e mi cacciarono di casa io avevo diciassette anni all'epoca la maggior età era ventuno naturalmente quindi loro mi hanno cacciato convinti che io sarei tornato a a ora di cena a casa io me ne sono andato convinto che loro mi avrebbero cercato per ora di cena morale loro non mi hanno cercato io non sono tornato a casa e quindi per tre mesi io sono stato all'epoca fuori casa quindi eravamo tutte e due evidentemente un po discoli ma al tempo stesso dotati insomma ecco diciamo ma prima ero un bambino molto tranquillo io diciamo che questo fu l'ingresso nella vita eh niente poi sai allora le famiglie avevano un concetto di educazione molto più rigido di quello di oggi certo 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 per cui diciamo che le motivazioni tue e mia oggi come oggi non sarebbero mai riprese in considerazione insomma no no non avremmo avuto problemi certo certo bravo bravo e quindi i tuoi studi i tuoi studi come sono proseguiti cosa hai scelto guarda allora io facevo un liceo classico dopo di quando fu espulso andai al parini che era un altro liceo classico di milano dove mi trovai ovviamente molto più libero rispetto al collegio quelli poi erano anni chiamiamoli di contestazione io ero assolutamente favorevole alla grande contestazione era un sessantottino cosiddetto anche se giovanissimo in che anno sei nato io ero nel 53 il 53 e quindi che cosa gli interessi erano quelli no filosofia sociologia però venendo fuori da una famiglia abbastanza rigida l'indicazione fu quella di o fai l'avvocato o fai il medico perché in famiglia erano tutti o avvocati o medici io dici no 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 nessuno interessa in questo allora se non fai questo te ne devi andare da questa casa siccome ai tempi non mi sentivo in forza tanto da potermene andare cioè me ne ero già andato però poi ero rientrato in casa sai quelle solite cose di quei tempi e niente allora incominciare a studiare medicina feci anche abbastanza bene sta facendo medicina con l'idea laureatomi di andarmene in africa e fare l'antropologo in un villaggio africano lavorando come dottore poi come medico poi poi scopri invece che potevo in italia non c'era nessuna laurea in antropologia o in etnologia non c'erano neanche seminari ai tempi o meglio ce n'era uno ma io non avevo cognizione era a roma tenuto da bernardo bernardi e basta insomma quindi quindi me ne andai a berlino che era un poco il luogo di cultura per eccellenza ai tempi soprattutto per quelli interessati che ne so la scuola di francoforte alle sociologie tedesche alle filosofie tedesche berlino era il luogo ideale me ne andai infatti mi trovai benissimo perché l'istituto di etnologia berlino era un grande istituto con notevoli personaggi quindi abbiamo di nuovo un'altra cosa in comune che è l'interesse per l'africa io pure nella mia prima laurea in scienze politiche mi sono laureato in storia istituzioni paesi afrasiatici e poi l'africa ha continuato ad essere un interesse senti tu hai una cultura vastissima e i tuoi interessi spaziano dagli studi sui vissuti della sofferenza quindi ecco il tuo interesse anche per la medicina probabilmente alle costruzioni mitologiche dagli svariati ti sei interessato degli svariati significati attribuiti alla parola amore nei vari contesti alla molteplicità di interpretazioni dello speciale rapporto tra l'uomo e il divino il tutto sempre analizzato e studiato sul campo in comunità sociali talvolta vicine ma talvolta anche molto lontane geograficamente tra di loro in italia in europa in africa in asia quali paesi hai trovato più affascinanti e quali scoperte hai trovato più inaspettate cioè nelle tue ricerche è venuto fuori qualcosa che non ti saresti mai aspettato di trovare ho passato circa 27 28 anni fuori dall'italia molti di questi anni li ho passati in africa e un po anche in asia molto di meno in america latina e una decina in germania diciamo che la germania è un luogo che mi ha molto affascinato ma anche in dispettito e l'ho sempre trovata molto esotica ma non mi ha mai sorpreso diciamo mentre il paese che c'è il paese il continente che sul serio mi ha sorpreso e non smette di sorprendermi di stupirmi di affascinarmi è l'africa la famosa locuzione di di plinio il vecchio ex africa sempre aliquid nove è sicuramente veritiera per quello che mi riguarda più di quanto non lo sia all'asia che è strumenti in tante per me ancora di più però mi sorprende di meno permettimi una notazione normalmente la frase appunto ex africa sempre aliquid nove viene tradotta dall'africa sempre qualcosa di nuovo ed è corretta ma a me sempre più piaciuta l'altra interpretazione di novi perché novi novice insomma conoscere quindi dall'africa ho sempre imparato qualcosa di nuovo ho sempre conosciuto ho imparato qualcosa questa mi piace molto come come riflessione attribuita appunto a plinio bello tu che ne dici sicuramente guarda sicuramente era anche nell'intento di di plinio cioè quella frase sicuramente sta significato non era quindi solo del nuovo ma proprio non erano solo curiosità non non erano solo curiosità erano proprio novità di conoscenza le proprie epistemologiche se vuoi certo bello senti ti va ora di spiegarci brevemente perché una cosa molto interessante il concetto che alla base è perché tu hai lavorato a questo progetto della foundation of a new european legal order che com'è nato e come si è sviluppato in che consiste allora ai tempi io lavoravo in un istituto dell'università di luven la vecchia luven la fiamminga non luven francofono ed era un'università ai tempi come anche oggi fra sempre fra le prime cinque al mondo quando vai a vedere quelle classificazioni delle università più di successo più potenti e già allora lui vennerà sempre fra le prime cinque significa che godeva non solo di prestigio ma anche di grossa credibilità da parte delle istituzioni della costruenda europa quindi tipo la ce avevano finanziato fortissimamente l'università di luven perché si ripensasse il concetto di stato sai allora si parlava di stato federale tipo stati uniti d'europa e via di questo passo quindi a luven ci fu questo cospicuo finanziamento all'istituto di 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 per i fondamenti del diritto e dunque ci occupammo di questo io ebbi un incarico all'interno di quel progetto ripensare l'ordine sociale di un nuovo ordine legale europeo ecco in che modo tu specificamente Antonio pensi che si possa attingere al diritto consuetudinario e tribale e alla cosiddetta giustizia informale associandoli al diritto statuale e questo in particolare nei processi di mediazione e soluzione dei conflitti che sono in atto in alcuni paesi africani e asiatici in etiopia e in Afghanistan per esempio dove tu ti sei recato quindi come si può conciliare il diritto storico per così dire europeo con le tradizioni legali informali di questi paesi l'italia in quanto erede dalla tradizione romana latina ha una straordinaria familiarità con il diritto con i diritti e gode di una fortuna infinita che è quella di aver avuto a che fare col diritto dall'origine stessa di quello che chiamiamo diritto oggi cioè il diritto lo hanno inventato i romani certo la codificazione del diritto no ma anche anche oltre in che senso abbiamo questa straordinaria familiarità mi diceva una volta il procuratore antimafia di di trieste una città dove ho vissuto insegnato che era un lucano che da loro in lucania in basilicata in dialetto diritto si chiama ius ah in latino quindi è interessante per dire quindi quindi c'è questa straordinaria familiarità e sappiamo quasi istintivamente che il cosiddetto diritto costitutinario è parte costituente dell'ordine e del diritto anche quello statuale formalizzato cioè questo lo sapevano già i latini lo sapevano già i romani i codici civili italiani lo hanno sempre riconosciuto il diritto informale consuetudinario è sempre stato riconosciuto la consuetudine è una delle fonti del diritto esattamente ora questo per noi è scontato scontato nel senso che è un qualche cosa di auto evidente perché non c'è questa contrapposizione violenta onetta o desiderio di mettere ordine lì dove non c'è noi sappiamo che l'ordine c'è ovunque e che si ricostruisce di continuo si trasforma si aggiorna quindi potremmo dire correggimi se sbaglio che se la popolazione fa in gran maggioranza delle cose che magari non sono sancite specificamente da una legge e punite con una sanzione però continua a farle prima o poi il governo potrebbe dire però si è sempre fatto così ed è consuetudine che questa cosa sia stata accettata quindi in realtà è anche pericoloso può anche accadere ma può anche accadere però è anche vero all'altra faccia cioè se qualcuno ha fatto sempre così e forse perché in una qualche maniera c'era un diritto magari non scritto ma c'era un diritto cioè c'era un ordinamento in quel senso o quello che stai facendo veniva considerato o può essere considerato in un determinato contesto lecito. Bene, senti tu hai sempre ritenuto la ricerca sul campo non solo uno strumento fondamentale per i tuoi studi antropologici e sociologici ma addirittura mi è sempre piaciuta questa tua definizione il tuo personale ed irrinunciabile stile di vita non hai comunque trascurato di fare anche survey researches anche riguardanti l'America Latina. Quale continente? L'hai già detto mi sembra di capire l'Africa però perché l'Africa e non per esempio l'America Latina ti ha catturato di più? La complessità dell'Africa ogni mondo è complesso ma diciamo che la complessità dell'Africa è meno facile da percepire ed è molto articolata ma articolata in maniera da farci comprendere che non abbiamo poi così tanti strumenti di indagine se non l'essere nel luogo e cominciare a vivere nel luogo certo fino a riuscire ad acquisire se tu vai in America Latina a momenti ti trovi a casa anche nelle anche diciamo nei luoghi più sperduti la prima volta che arrivai a Buenos Aires sali tu su un tassi anche perché ero stanco e mi addormentai mi sveglio il tassista quando arrivamo lì dove dovevamo arrivare che era il quartiere di Sant'Elmo e mi disse molta fiducia negli esseri umani è totalmente a mio agio semplici tutto sono addormentato questo non mi sarebbe capitato di sicuro da nessun'altra parte sulla faccia della terra ma cosa voglio dirti con questo ci sono dei luoghi dove tu ti puoi sentire meno meno estraneo evidentemente in Africa ti senti estraneo immediatamente non fosse per altro che per il colore della pelle perché te lo rilevano ogni due secondi tutti in Asia anche se immediatamente identificabile però lo stesso l'Asia qualcosa c'è che noi già conosciamo interessante cioè per me l'Africa è mistero l'Africa è mistero beh sì era anche la rappresentazione mentale che tutti noi avevamo nei guardi dell'Africa è rimasto sì però io te lo dico dopo 8-9 anni che ci sono stati in Africa ancora è mistero certo certo bello senti nel 2017 quindi qualche anno fa io ho avuto personalmente l'onore insieme all'amica Emanuela Scarponi di presentare a Roma all'isola tiberina il tuo volume Antropologia post globale potresti mostrarcelo se ce l'hai lì a portata di mano e sintetizzarcelo in poche parole? sì questo è il volume allontanalo un po' di più allontanalo Antropologia post globale legge anche le due righe sotto che non riesco a leggere? le due righe sotto sono no è la prefazione di Patrick Bumar e la postfazione di Mauro Ceruti bene bene sintetizzacelo questo volume ha come tesi fondamentale smentire che siamo in un processo di globalizzazione perché secondo me la globalizzazione è già giunta al suo termine da molto tempo anzi questo dire che siamo ancora in globalizzazione fa parte delle menzogne del processo di globalizzazione arrivato al suo termine e smentisco nelle mie tesi in questo volume quanto aveva detto fra i 70 e cioè che noi fossimo giunti in un'epoca a quella postmoderna nella quale tutte le ideologie erano finite e morte secondo me proprio in quest'epoca a globalizzazione compiuta tutte le ideologie sono tutt'altro che morte sono vivissime magari nascoste un po' celate sotto le acque ma molto 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 attive per esempio non so il razzismo il darwinismo sociale la selezione naturale le ideologie tutte altro che morte sono vivissime senti tu sei anche il fondatore e il direttore di dada rivista di antropologia post globale poi appunto sempre il post globale a chi si rivolge questo periodico e cosa intendi propriamente con il termine post globale ce l'hai già spiegato ma ridillo nattiva se hai una vecchia copia magari cartacea da mostrarci e questo numero questo numero è uno speciale non la rivista a due uscite l'anno in giugno e in dicembre quindi è un semestrale ma anche sono tematici questo numero è sull'antropologia del cibo diciamo l'antropologia del cibo di cui parleremo tra un po' naturalmente certo bello 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 senti quindi viviamo in un'epoca post globale e questo è un dato di fatto a questo punto ti va ora antonio di parlarci di te come persona oltre alla tua attività di antropologo c'è un'altra vera passione nella tua vita c'è o c'è stata oltre all'antropologia sì ma campi vicini mi interessa molto nel senso di con le tecniche per esempio occidentali dell'ipnosi ma anche con altre tecniche è un mondo che mi è molto a cuore mi è molto vicino quello della trascendenza chiamiamola così trascendenza dalla quotidianità e d'altro quindi la trascendenza è un grido interiore che ognuno di noi ha questo di trascendere se stessi un grido interiore questo di trascendere se stessi sì penso che sia insito nell'uomo in tutti gli esseri umani e come le tue attività di ricercatore e di accademico hanno influenzato la qualità della tua vita affettiva e familiare? penso che per certi versi l'abbiano un po' danneggiata o messa in crisi la famiglia sono stato in diversi luoghi non sempre ospitati e la famiglia devo dirti che mi ha seguito vuoi perché i bimbi erano molto piccoli e non potevano essere lasciati soli ma con la mia compagna cioè mia moglie noi abbiamo molto ci siamo mossi parecchio sempre se vuoi da privilegiati ma comunque non è stato facile soprattutto per i ragazzi per mio figlio e per mia figlia ma anche per mia moglie è stato un po' stressante vivere in Africa vivere in una grande città e stare buoni e tranquilli è di una facilità enorme ma se incominci a viaggiare fuori in zone impervie oppure vai in una tribù o in un gruppo etnico dove per andare in bagno devi essere seguito da due o tre persone se no hai rischi di essere aggredito dalle iene come ti accovacci sai che la iene aggredisce sempre chi si accovaccia immediatamente ah interessante tutto quello che è più basso di lei viene aggredito immediatamente per cui se tu devi andare in bagno a svolgere alcune attività è bene che tu venga accompagnato da un paio di persone uno che tenga una bella lampada in mano di quelle forti una torcia e l'altro con un bastone o una lancia perché se no rischi davvero la vita allora portare la famiglia in queste condizioni non è che fosse sempre semplice per la famiglia certo senti quale tra le tue realizzazioni ti rende particolarmente orgoglioso? fra queste realizzazioni ci mettiamo anche alla famiglia certo e allora è questa la più importante la famiglia essere riuscito non solo a farti una famiglia ma a mantenere unita una famiglia nonostante tutte queste sfide che la tua vita di ricercatore, di antropologo ha comportato che è la nostra vita poi sai una famiglia è una vita coinvolta assolutamente certo la famiglia è una vita coinvolta siamo tutti coinvolti certo bella questa cosa senti scendendo sempre di più nella tua umanità virgolette normale per quanto possa essere normale la vita di uno che quando doveva andare a fare i bisogni aveva bisogno di essere scortato per proteggersi dalle iene bello questo aneddoto qua qual è il tuo segno zodiacale? vergine vergine il tuo ascendente? mi dice mia figlia che è vergine anche l'ascendente vergine e nell'oroscopo cinese che animale sei? prendo nota di vergine serpente ah vergine vergine e serpente questo lo sai con certezza sì me l'ha detto mia figlia lei sa tutto lei sa tutto bella questa cosa senti ti riconosci nelle caratteristiche descritte dalle varie astrologie quella nostra e quella cinese? quindi le caratteristiche del vergine che teoricamente il vergine dovrebbe essere radicato alla terra tu sei radicato alla terra ma con tutte le lettere maiuscole non all'orticello no sono radicato alla terra sai ho elaborato il concetto di filosofia tellurica per l'antropologia è bello sì 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 vero spiegalo sono legato alla terra noi siamo qui in questo mondo da Sein Heideggeriano noi ci siamo l'esserci ci siamo inutile in altri termini questo è un momento particolare della nostra esistenza un momento particolare della nostra esistenza è quello su questa terra certo ed è un momento di filosofia tellurica l'esserci il Dasein l'esserci certo ed è un momento di straordinaria importanza questo esserci qua esatto è la consapevolezza dell'esserci del qui ed ora e così via ma esatto ma mi vedi Evaldo ciò significa che la vicenda nostra non è cominciata qui è continuo e continua anche dopo l'ora assolutamente dopo riprenderemo questo concetto tra un po' Cosa ti piace del tuo carattere e cosa invece vorresti cambiare? Cosa mi piace del mio carattere? Che ogni tanto so soprassedere rispetto alle asperità alle difficoltà della vita sì vedo di dei rapporti mi riesce facile pensare ad altro o ignorarle andare oltre insomma guardare oltre vedere oltre andare oltre bello senti a prescindere dalla tua specifica personale esperienza affettiva e familiare di cui comunque ci hai già parlato potendo tornare a nascere ti consiglieresti come marito? o comunque come partner per la vita? andrebbe chiesto a mia moglie sì va bene ma noi lo chiediamo a te tu che ti conosci no lo so forse un po' pesante sono un po' pesante quindi insomma ci vuole una donna con molta forza insomma d'animo non forse e come padre? penso di essere un buon o almeno ci ho provato davvero molto è stato molto importante e tornando invece indietro nei tempi e come figlio ti consiglieresti? no 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 proprio preciso no sei stato anche difficile io so che mio padre ha avuto delle difficoltà con me quello che si dice pure io per così dire da ragazzo sono stato un ragazzo da maneggiare con cura insomma però credo che anche su questo abbiamo avuto cose in comune in fondo eri un bravo ragazzo probabilmente bravo a scuola però però con virgolette indipendenze che che creavano problemi soprattutto all'epoca oggi i genitori convicti sai io all'epoca per dirti a 13 anni leggevo Freud totem e tabù per cui non potevo andare d'accordo con i miei docenti cioè non so se ero un emarginato fin dalla nascita o mi sono autoemarginato ma ho sempre avuto delle difficoltà a seguire i discorsi degli altri e seguivo i miei discorsi oppure i discorsi di autori certo senti e sempre tornando a nascere ti consiglieresti come amico? sì come amico penso di essere un buon amico davvero sono molto leale con gli amici e come collega collega di lavoro collega di scena non mi consiglierei perché io non ho la stima dei miei colleghi e penso che anche loro abbiano difficoltà con me quindi non come collega non mi consiglierei non sono un buon collega non condivido molto il mondo loro con gli amici invece moltissimo bello e come capo? come capo missione come capo di ricerca come capo no sono stato sempre un buon capo cioè mi hanno molto voluto e hanno molto pianto quando me ne sono andato interessante e come docente? sono un buon docente bello corretto generoso un po' fantasioso troppo troppo vabbè il compito del docente è quello di aprire più orizzonti di quelli che avesse lui ai propri studenti ai propri allievi magari senti e qual è il principale pregio che ti riconosci? la capacità di saper resistere alle avversità quindi la resilienza la capacità di saper resistere alle avversità e uscirne più forte e più aperto di prima insomma più probabilmente sì e qual è invece la virtù che gli altri ti riconoscono? se mi riconoscono una virtù è l'affidabilità l'affidabilità bello e invece qual è il principale difetto che ti riconosci? a volte o spesso sottovaluto la fatica e la sofferenza di quelli che mi stanno attorno cioè li misuri sulla tua resistenza sulla tua capacità di portare avanti faccio apposta non lo faccio apposta non lo faccio però mi accorgo che ogni tanto c'è sofferenza certo quindi come dire pretendi dagli altri più di quanto forse non potrebbero dare ma non mi accorgo di pretendere che è peggio ancora sì certo senti hai un inascondibile vizio che gli altri ti riconoscono cioè qualcosa che non puoi nascondere? se a volte prendo delle strade troppo rischiose o troppo che fanno temere ma fisicamente? oppure simbolicamente? entrambi e questo magari ti è costato anche sul piano professionale sul piano accademico? poco sul piano accademico parecchio ma su quello personale diciamo pure insomma qualche volta sì quindi sei un uomo un uomo non per tutte le stagioni e un uomo anche tu da maneggiare con cura senti in quale infernale girone dantesco ti troveresti più a tuo agio per le frequentazioni insomma per gli amici che potresti incontrare per le frequentazioni ma guarda doc come curiosità mia me ne andrei nell'ottavo cento per stare un po' con Ulisse e chiedergli tante cose lì quello mi piacerebbe parecchio oppure oppure mi piacerebbe forse ancora di più stare con i patriarchi ma non so se questo lo vuoi considerare inferno siamo proprio appenetrati insomma no i patriarchi mi piacerebbe parecchio stare certo a Damo a Paramo Noè sì sarebbe bello stare un ricercatore proprio degli origini assolutamente sì assolutamente sì oppure andiamo verso l'uscita sui peli di Lucifero senti Antonio che cosa che abbiamo fatto ogni tanto bello bello senti Antonio anche tu come me d'altra parte sei un raffinato cultore di sapienza iniziatica e senza tempo qual è il tuo rapporto quotidiano con il mistero quindi il tuo rapporto quotidiano con il mistero il paranormale la medianità la magia beh guarda tanto veramente c'è da chiedersi c'è qualcosa di più misterioso dell'essere umano non credo sinceramente ed è la ragione per la quale mi occupo di essere umano da sempre certo è misterioso per quello che mi riguarda è misterioso e ovviamente produce misteri vive nei misteri siamo in un mistero immenso e questo mi affascina in maniera incredibile più di quanto faccia tremare mi affascina bello timore e tremore mi fa anche eh sì 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 timore e tremore senti ti ritieni un sensitivo hai avuto hai degli aneddoti di sensitività tua speciale specifica mia mia no ma di persone che mi stanno vicino sì e quindi attendibilissimi insomma c'è qualcosa che ti va di raccontarci senza ombra di dubbio siccome mi occupavo di culti del genere cioè culti di trans lo studio di rapporti rituali con entità superiori è una vita che me ne occupo ovviamente ho conosciuto alcune persone cavalcatori di spiriti il termine tecnico sì una di queste alla quale era una signora alla quale ero molto vicino interessante per come lei lavorava ogni tanto mi ha fatto predizioni che mi hanno sconvolto perché si sono assolutamente precisamente averate per esempio non faccio nomi però ci bastano i cognomi un giorno mi disse no perché adesso capirai perché un signore che aveva una funzione particolare all'interno di una particolare ambasciata aveva una voglia enorme di sapere qualche cosa del suo futuro perché aveva avuto un passato molto molto pesante e mi disse mi porti da quella signora lì che tutti sanno che tu vai lì da lei con te parla io dissi dopo molte insistenze sue anche se lei non lo faceva volentieri come entrai in casa di questa signora lei mi mandò subito fuori e mi disse portalo via immediatamente allora io lo portai però ero molto molto incuriosito quindi mi scusai con lui e dissi no lei oggi così eccetera eccetera lo portai tornai subito da lei e lei la chiamavo mamma che era un titolo affettivo ma anche di rispetto ma che cosa è successo no figlio mio no tutto intorno a lui è sangue ho detto ma no questo è quello che è successo nel passato lui ha avuto incidenti non te li posso raccontare perché non si identifica ma no no è quello che accadrà fra poco ah si oh si si moriranno molti intorno a lui stagli notanissimo tornai in Italia e lessi sui giornali che questa persona era l'unica sopravvissuta di un incidente gravissimo nel quale c'erano stati oltre un centinaio di morti veramente non ti posso andare nei particolari ma lei mi ha raccontato tutto nei particolari ed è esattamente quello che è accaduto stando al rapporto dei giornali certo interessantissimo senti queste diverse diverse di queste storie molto interessante approfondiremo in futuro senti e qual è il tuo rapporto con la fede religiosa quindi quella diciamo ufficiale quella comune o comunque una qualsiasi fede religiosa io non è che creda sono certo che questo sia una tappa della nostra esistenza quindi non è iniziato niente di particolare con la nascita e finire con la morte su questa terra se non questo percorso su questa terra e quindi per una continuità ecco quindi tu credi per esempio come me io credo la reincarnazione o comunque la possibilità che esistano vite precedenti e vite successive a questa attuale non so se siano vite altre ma è come per la mia fantasia o per la mia immaginazione è come se fosse un tutto incindibile quindi capitoli di un unico romanzo no di più romanzi ancora probabilmente probabilmente non è questa l'unica dimensione certo probabilmente siamo più di uno in più luoghi contemporaneamente in più tempi diversi in più dimensioni diverse probabilmente la spirale del tempo e della vita senti qual è il tuo atteggiamento nei riguardi della morte? esperienza tragica e bella al contempo che la vita su questa quindi tragica tragica per quanto riguarda gli affetti e esperienza in quanto stai parlando ora da ricercatore da studioso ma anche tutto sai anche tutto il dolore che hai vissuto sentito notato percepito e conosciuto in questo mondo io questo mondo lo vedo anche pieno di dolore di sofferenza forse anche perché per via del mio lavoro ho vissuto in luoghi dove di dolore ne ho visto un'infinità però lo vedi anche qua il dolore di tanta gente quindi io la vedo come esperienza tragica perché a prescindere dal dolore mio delle persone a me care io vedo un mondo di dolore oltre che di gioia certo senti e cosa pensi del karma beh in alcuni casi è stato proprio spietato il karma quindi credi al fatto che le conseguenze di quello che abbiamo vissuto fatto o non fatto lo ritroviamo nel seguito della nostra vita in mezzo di alcuni colleghi di alcune persone che uno conosce del karma davvero sconcertanti sì sì ah sì c'è il karma il karma può essere un grande alleato indietro e può essere anche un grande giustiziere scendendo ancora più nell'intimo hai avuto qualche delusione nella tua vita e che lezione eventualmente ne hai tratto ti va di parlarcene? sicuramente di delusione ne ho tante ma tu prima avevi detto che godi di una certa sordità in determinati contesti no? assolutamente sì quelli che permettono appunto di tenere in vita matrimoni per 50 anni e io ho la fortuna di di saper dimenticare ah ecco molto 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 bene e molto ma davvero lo dimentico quindi deve essere una qualche capacità di autocensura indipendente dalla tua volontà per cui so per certo di aver avuto parecchie delusioni ma se te ne dovessi raccontare una dovrei veramente stare a pensarci mi piace ricordare un aneddoto attribuito ad Alcibiade antico ateniese al quale un retore un sofista dell'epoca aveva offerto delle potentissime tecniche di memoria in cambio invento di un milione di dracme del tempo dell'epoca e nell'aneddoto si racconta che Alcibiade gli abbia risposto quanto vuoi un milione di dracme per insegnarmi a ricordare te ne do il doppio se mi insegni a dimenticare eh eh trovo molto saggio a questa questa cosa mi è sempre anche per me è saggissima mi è sempre piaciuta senti hai qualche rimpianto per non aver fatto qualcosa che forse avresti potuto e magari dovuto fare sì certo puoi parlarcene sì tante volte avrei potuto aiutare qualcuno e non l'ho fatto quindi non aver non esserti speso abbastanza magari non mi sarebbe neanche stato di grande sforzo quindi perché è difficile percepire le reali richieste d'aiuto non è così facile certo comprendere non è facile comprendere non aver dato tutto l'aiuto che avresti potuto dare ho capito bene sì perché non me ne sono accorto perché non cioè non entravo in connessione diciamo e magari non allargando allargando il concetto di aiuto te la sentiresti di dire che hai il rimpianto di non aver manifestato tutto l'amore che avresti potuto dare sì anche questo mi riferivo ad altro ma anche questo che hai detto riconosco certo certo senti e ti sentiresti di confessarci qualche eventuale rimorso per aver fatto qualcosa che sai che non avresti dovuto fare sei libero di non rispondere naturalmente ma quando passi in prescrizione ne parlerai quando passerai in prescrizione va bene senti ora invece cerchiamo di conoscere le tue muse tu hai ovviamente scritto libri ma hai anche dipinto quadri no ho fatto disegnini non sono un grande hai scolpito statua no ho spaccato pietre adoro rompere pietre e trovare forme particolari da queste pietre ah che carino hai composto musiche o canzoni no e ideato stesure teatrali no questo lo fa mia moglie ah il teatro della vostra vita quotidiana qui tu sei ah forse anche non lo so qui tu sei un comprimario eh sì sono autobiografici gli scrittori senti e hai mai diretto film no ma ho scritto il plot di un film ah sì eh Angelo Rizzo che era purtroppo ora non c'è più eh era un gran bravo regista documentarista un giorno mi disse stavo pensando di fare un film documentario su Ali Hachka ah su Ali Hachka e allora l'attentatore del Papa e allora gli dissi ma scusa ma come mai ti viene in mente l'idea del genere fa no beh una figura che è molto complessa molto complessa mi piacerebbe fare un film non so però ho detto ma non credo e lui mi disse ma vedi che io in uno dei miei film ho fatto recitare Fidel che è vero e allora vuoi che non mi riesca di fare qualcosa con bene allora da dove cominciamo vabbè possiamo fare cosa tu intervisti tu intervisti Ali Hachka e poi ti fai un'idea se la cosa ti interessa vediamo magari scrivi la sceneggiatura allora io intervista Ali Hachka un'intervista abbastanza diciamo non fra amici come fra te e me un'intervista molto dura di Fidel e la cosa mi interessò moltissimo nei suoi risultati per cui scrissi il plot di sto film che si intitolava l'ultima verità purtroppo Angelo Rizzo morì e quindi non arrivamo alla realizzazione del film ma Alec come si chiamava quello di Baldwin doveva fare Ali Hachka era già stato contattato ed aveva già manifestato i suoi interessi era un film a valenza leggermente esoterica quello che ha disegnato anche perché nel dire l'ultima verità mi permetti di fare un altro riferimento nella cultura greca classica tu ricorderai che la verità aveva diversi termini ma uno dei quali che mi ha sempre intrigato è il non nascondimento cioè la verità come qualcosa che esiste ma definita in termini negativi appunto come non nascondimento la verità non la conosceremo mai in sostanza insomma perché tutto è in qualche modo nascosto pensiamo al misteri e così via la lette bene senti ti sei mai cimentato ah no aspetta hai mai elaborato danze? no questo no ma ti piace ballare? no poco sì mi muovo cerco a volte sì dipende dalle musiche oppure ballo con la mia nipotina quando la tengo in braccio mettiamo Gerusalemma e balliamo insieme ah hai capito uno dei vantaggi di essere nipotina nel senso di nonnità immagino sì la tengo sì la tengo in braccio e facciamo Gerusalemme perché c'è anche la nipotina in termini di ziità insomma invece no nel caso tuo di nonnità senti e ti sei mai cimentato nella poesia? sì e c'è qualche ci reciteresti qualche verso possibilmente tu o comunque a te particolarmente caro? un verso mio non so se ti piace te lo posso leggere perché sì certo io scrivo tante poesie allora ne vuoi una che ho scritto nel 1934 se mi dici anche l'ora 1934 o una che ho scritto nel 2028 ah interessante questa cosa ho una che ho scritto nel 2003 quale vuoi? è quella del futuro scritta no però il 2028 deve ancora arrivare ma nella mia mente l'ho scritta ho detto nel 2028 ecco cosa scrivo era dedicata a mio figlio quando l'ho scritta figlio guarda come fluido il pensiero si agita in una gabbia di ferita riverberi di idee su pareti incontaminati non ho occhi che per l'oculista ma tu non sai non ho occhi che per l'oculista ma tu non sai quanto ciò valga la candela quando il gioco si fa tardi e stormi di uccelli fra i peri come pendoli conferenzieri restano zittiti da fugaci risposte odi la figlia del nostro dolce muazzin gridare in corso col dito intarsiato da mille e una spilla da balia le è valsa la penna una Montblanc una Montblanc del resto regalata a Natale da un vecchio chitarrista dei New Trolls mi pare mettiti in comodo sulla tua bicicletta e pedala nel fresco del mattino che carino bello bravo senti ce ne ho tante immagino hai mai piantato un albero? sì tanti dove? per esempio ho piantato una volta una decina di alberi di carrubo di carrubo mi piace carrubo pugliese adoro mi piace tantissimo sì 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 poi ho piantato tanti olivi ah bravo eh Puglia sempre cipressi cipressi ho piantato anche una mimosa ah bella un corbezzolo sì non mi piace piantare altro che carino bravissimo senti e hai mai collezionato qualcosa in modo sistematico? a parte i cuori in santi sì sono stati periodi altamente maniacali per esempio ho la collezione quasi completa dei francobolli dell'Etiopia oppure dei francobolli dell'Argentina altro paese che mi è caro e poi una banale collezione di francobolli italiani senti ma immagino che i francobolli con l'Etiopia e con l'Argentina fossero la tua corrispondenza amorosa con Etiopiche e Argentine no 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 a me lo puoi dire a me e poche migliaia di altri lo puoi dire perché se uno sceglie di collezione di francobolli vuol dire che ne riceve tanti oggi riceviamo mail e non abbiamo più francobolli però poi anche quella è finita ma colleziono tante cose tante cose per esempio arte africana libri tutto quello che mi capita anche c'è una raccolta di sassi ti piace cucinare? pensavo che mi piacesse ma mi hanno detto che non sono molto forte ma non sei e hai comunque un tuo piatto speciale che potresti potremmo suggerire a qualche eventuale corteggiatrice che decida di invitarti a pranzo a cena? che lei prepari per te sì un piatto che a te piaccia particolarmente l'ana tra l'arancia mi piace l'ana tra l'arancia caspita addirittura ci hanno scritto una commedia mi pare sull'ana tra l'arancia sì vedo qualcosa che già hai senti che tipo di vino o altra bevanda preferisci per pasteggiare rilassarti socializzare vini rossi vini rossi ben stagionati corposi ma non barricati ma non barricati senti e qual è il tuo rapporto col peperoncino o comunque le spezie in generale? ottimo ho un ottimo rapporto con tutte le spezie mi piace molto e oltre all'ana tra l'arancia che comunque non è un piatto tipico nostro hai importato un qualche piatto esotico nella tua cucina abituale? sì parecchi tipo? parecchi per esempio abbiamo in casa molta cucina iraniana ah iraniana sì anche cucina latinoamericana sì a casa mia per fortuna c'è una gran varietà in quel campo lì bene saremmo felici di essere spontaneamente invitati da te con piacere quando vuoi con piacere credi Antonio all'amore a prima vista? sì e ai cosiddetti amori carmici le anime gemelle che si inseguono per l'eternità non ho dubbio di alcun genere in questo sono proprio certo all'amore a prima vista e anche con tua moglie è stato un amore a prima vista? sì 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 da parte di tutte e due? sì o solo da parte tua? no da parte di tutti e due ah bello questa cosa qua quindi folgorante da quel punto di vista bello 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 senti potresti però darci la tua personale definizione di amore cioè che cosa è per te l'amore come te lo chiedo come uomo te lo chiedo anche come antropologo naturalmente e te lo chiedo come grande esperto di amore molto molto difficile è talmente complesso l'amore è misterioso ma diciamo volendo riassumere ma veramente e credo che sia il mistero dei misteri il mistero dei misteri la fortuna in me chi sa provare amore è veramente fortunato scusami se mi permetto hai detto chissà provare amore o trovare no provare provare bellissimo quello che dici perché io sono talmente d'accordo su questo la cosa veramente importante per me non è trovare l'amore ma provare l'amore questo è il vero miracolo questa è la vera magia ed è infinitamente più importante amare che essere amati ma tu sei l'uomo per me Antonio sono assolutamente d'accordo perché io predico da secoli insomma da sempre che è più importante amare che essere amati è assolutamente d'accordo bellissimo grazie di questa tua confortante testimonianza senti e quali caratteristiche ha o dovrebbe avere la compagna ideale della tua vita osserva bene chi c'è intorno e ricordati che anche i muri hanno orecchie ma per me è molto importante l'intelligenza l'intelligenza quindi qualcuno che sappia apprezzare la tua intelligenza ma diciamo l'intelligenza è ovviamente la sensibilità ma è un tutur di un'intelligenza matematica no cioè la capacità di di comprendere apprendosi al mondo sì questo è molto molto importante per me trovare nelle persone e allora la mia compagna che grazie all'onnipotente è per me così cioè intelligente e straordinariamente sensibile è proprio l'ideale per me bello quindi sei stato fortunato e anche lei è stata fortunata a trovare anche lei non lo so io sì tu che apprezzi non fosse altro questo che non è da tutti naturalmente senti nella vita facendo un bilancio ritieni di avere tu più amato oppure di essere stato tu il più amato in sostanza ma hai ricevuto o hai più dato in termini di amore ma guarda credo di aver molto più ricevuto che non dato nel senso che cioè non è mai abbastanza quello che dai sì sono d'accordo però quando sei amato basta un non nulla ti senti veramente bene sì senti e ti consideri un uomo geloso sì abbastanza in quanto meridionale sarà quello c'è qualcosa di animalesco nella gelosia proprio la protezione della propria gioia la protezione della propria gioia della fonte della propria gioia quindi nel discorso di possesso e cosa farebbe scattare o cosa ha fatto scattare in passato la tua gelosia ma un interesse eccessivo manifestato nei confronti della persona a me cara da parte di altri quindi il comportamento di una terza persona non sì quindi sei geloso delle iene intorno è ridico no 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 sì vai qui quindi beh il timore diciamo che qualcun altro possa in qualche modo virgolette turbare la gioia e così via senti e ti ritieni sempre ricordati che anche le mura hanno orecchie ti ritieni un partner fedele sì beh non potevi rispondere diversamente no ma no è vero mi ritengo fedele non fai parte di quegli uomini ti ricordi quella canzone un tempo quando io ero ragazzino si cantava ah ma mi se vuoi tienimi se puoi io sono l'amor che tradisce te la ricordi sì no non faccio parte di quella logica bene allora quanto è durata o quanto dura sta durando la tua relazione affettiva più lunga e ricordati sempre che le mura hanno orecchie no ho 36 anni 36 anni bello 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 36 anni senti e che cos'è per te il tradimento è una brutta cosa davvero per me il tradimento è l'azione consapevole di far soffrire qualcuno rispetto alle aspettative che ha riposto in te quindi far soffrire deliberatamente consapevolmente qualcuno che abbia risposto che abbia riposto delle aspettative nei tuoi riguardi qui un esempio di tradimento quello sessuale o altri tipi ma forse quello sessuale diciamo è il meno è gravissimo per me venire meno a un programma comune addirittura un programma di vita e farlo consapevolmente per far male all'altro farlo consapevolmente per far male all'altro sì per esempio io considero tradimento il fatto di abbandonare l'altro nel momento della malattia del carcere assolutamente proprio questo si che è tradimento ma rientra nella mia definizione questo rientra nella definizione non che l'essere traditi sessualmente faccia piacere ma insomma quello come dire è veramente il minimo rispetto al tradire quello può far parte davvero di una debolezza umana di una condizione specifica di una situazione particolare insomma è complessa la vicenda mentre l'addolorare volontariamente un qualcuno rispetto alle aspettative di fiducia che aveva riposto in te è terribile no? è terribile l'esempio che hai fatto è terribile senti antropologicamente parlando quindi non mi pare vero di poter porre questa domanda a un antropologo tu come uomo come come seduttore nella tua vita naturalmente ti piace di più essere preda o cacciatore? cioè hai capito perfettamente anche se fai finta di rifletterci sopra ma insomma ti piace essere tu a prendere l'iniziativa o ti piace che sia lei a prendere l'iniziativa quale gioco ti piace di più? mi piace per esempio organizzare le cose in modo da essere preda ah che carino quindi ti piace organizzare il tutto virgolette manipolare la situazione in modo che l'altro l'altra abbia l'illusione di essere la cacciatrice e tu ti sei preparato a recitare il ruolo di preda poverino sì certo è un po' derresponsabilizzante tutto all'aspetto positivo di chi ha la convinzione corretta ha avuto la preda che voleva bello 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 quello che si diceva sempre la donna insomma si fa sedurre dall'uomo che lei ha comunque scelto prima ancora che l'uomo si rendesse conto di lei per così dire bene senti in quale paese straniero o con quale nazionalità il tuo fascino di italiano e diciamolo pure di pugliese ti è sembrato riscuotere più successo o comunque ha suscitato più allarmi ma l'italiano ha successo ovunque non c'è niente da fare parli di te naturalmente no no ma gli italiani sono tremendi guarda vedi fare di quelle cose pazzesche in giro per il mondo dagli inuit che ne so dall'estremo nord dell'agroinlandia agli aborigini dell'Australia gli italiani hanno sempre un gran fascino così è sì sì mai capito perché e quale paese o nazionalità hai trovato particolarmente amabili per il loro modo di corteggiare un uomo in particolare un italiano cioè qual è il modo con cui ti piace di più essere corteggiato è un modo un po' come dirti un po' gioioso teatrale sofisticato mi diverte e allora devi andarla cercare o in certi luoghi dell'Oriente o in una certa Europa molto intelligente puoi trovare qualcosa in Francia qualcosa in Germania ma qualcosa anche nel mondo arabo oppure una principessa africana una principessa africana mamma 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 senti c'è un complimento al quale tu sai di essere particolarmente sensibile tutti i complimenti a tutti qualunque complimento va bene da buon di storico della vera senti e qual è la tentazione alla quale sai che non potresti resistere non ce ne sono non ci sono tentazioni alle quali sai che non potresti resistere resisti a tutto dai veramente resisti a tutto meno che alle tentazioni come avrebbe detto Oscar Wilde se le consideri tentazioni resisti a tutto se le consideri invece ah interessante subdola questa cosa se le consideri un'occasione di allargare le proprie conoscenze e esperienze allora va bene non è una tentazione giustamente è un campo di ricerca non conosco tentazione bello senti ti va di condividere con noi un eubiotico aforisma un aforisma di buona vita tu o di altri o un mantra o una preghiera che hai trovato preziosi per affrontare momenti difficili della tua vita ci sono tante preghiere una che ti venga in mente un dio perdona che non sanno quello che fanno ah bello padre perdona loro perché non sanno quello che fanno anche qui mi trovi totalmente d'accordo dentro mi ci metto anch'io io sto chiedendo perdono certo certo se noi usassimo veramente questa frase come mantra padre perdona loro perché non sanno quello che fanno è riferita anche a noi come giustamente chiedi tu veramente la vita dell'umanità potrebbe cambiare in poco tempo sono d'accordo con te bello bello senti potresti suggerirci il titolo di un libro a parte dei tuoi che ritieni sia stato particolarmente utile per la tua formazione umana personale per la tua crescita personale ma guarda davvero quasi tutti i libri che ho letto sono stati importanti quasi tutti ogni tanto ce n'è qualcuno che ti colpisce di più poi magari pensi che non valesse tutto quello che tu pensavi valesse allora ma e cambi di nuova idea però c'è un libro che mi aveva sballordito tanti anni fa perché sapeva parlare con leggerezza di questioni di una complessità immensa ed era un libro abbastanza ignorato di uno secondo me di un genio che è Mario Brelic Mario Brelic pubblicò abbastanza poco poi ho scoperto in italiano e uno di questi volumi anzi due o tre li ha pubblicati con la Delphi di questi si chiama si intitola Il navigatore del diluvio ed è la Il navigatore del diluvio di Mario Brelic sulla figura di Noè ma come la tratta a me colpi molto quando l'ho l'essere per la prima ottimo suggerimento e c'è un film o un'opera teatrale che consiglieresti per la sua preziosa lezione di vita anche lì ne ho tantissimo in mente anche perché a me la cinematografia interessa molto ma ne ho visto uno ultimissimamente anche se è stato un film pubblicato tempo fa un film documentario intitolato Human Human di un regista francese ti consiglio di vederlo perché è molto emozionante bene ti chiederò poi gentilmente di mandarmi due righe con i riferimenti bibliografici ti mando il link ti mando il link perché veramente per me è stato un gran bel grazie no non credo averlo visto e c'è una canzone che ti ti sia rimasta particolarmente in mente e che magari ti sorprende ogni tanto a canticchiare Dio è morto ah Dio è morto faccelo risentire ti ricordi i nomadi sì 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 dei nomadi questo era di Cuccini sì beh quella canzone lì mi è sempre molto poeta ti ricordi il refrain il motivo ora mi piace ho visto la gente della mia età andare via sì 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 ho visto la gente della mia età andare via sì sì Dio è morto sì senti hai qualche personaggio oltre ai tuoi genitori poi è risorto l'ultima strofa è risorto sì 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 senti hai qualche personaggio oltre ai tuoi genitori naturalmente che sia stato di particolare ispirazione nella tua vita come mentore come insegnante come esempio da imitare o al limite assolutamente da non imitare no da imitare no ma per quello che ha detto sì diversi per esempio che ne so Jakob Taubes che è un filosofo ebreo tedesco oppure Fritz Kramer un altro filosofo e antropologo tedesco di viventi dico Taubes è morto vabbè Fritz Kramer è vivo anche non necessariamente viventi insomma sì anche non necessariamente viventi anche perché certi personaggi sono eterni insomma sono sempre viventi a me piace molto quella Platone che era un filosofo mi interessava molto sai che era un grande stratega no? aspetta non sono sicuro di aver sentito il nome Platone Platone era un grosso guerriero era uno stratega mh beh non è proprio l'aspetto più noto no però è questo che è interessante bello bello interessante era un uomo che aveva visto l'orrore della guerra ma aveva pensato cose in grazia divina insomma certo senti facendo il bilancio della tua vita e passando in rassegna tutte le varie aree esistenziali quindi famiglia d'origine famiglia acquisita rapporti affettivi tra affettiva e sessuale realizzazione professionale valori personali aspetto fisico quale consideri il tuo più grande successo proprio la coppa la coppa della vita a me dovuto beh in cui sì certo tu sei stato l'artifice o comunque un elemento essenziale a volte abbiamo molto più di quello che ci meritiamo questo è vero a volte non abbiamo per niente quello che ci saremo meritati certo è morto no ritorno a prima una delle cose che il buono che ho fatto nella vita per esempio ho aiutato a sopravvivere alla sopravvivenza parecchia gente di quello sono orgoglioso quindi l'avere aiutato a vivere a sopravvivere le persone e qual è la cosa per la quale sei più grato a Dio o all'universo di aver avuto questa occasione di incredibile avventura stare su questa terra sì è importante è importante per lo sviluppo della persona essere stati su questa terra certo quindi la vita sei grato alla vita a Dio all'universo alla vita nonostante tutto perché è un'esperienza molto importante anche se a rischio elevatissimo ah beh certo la vita come si dice una malattia inesorabilmente mortale è trasmessa per via sessuale mi riferisco al fatto che non vorrei essere un dannato un domani certo cioè non è facile vivere in questa terra non è facile esserci senza correre il rischio della danazione di una qualche forma in una qualche maniera ecco se mi permetti potremmo dire che non è facile vivere su questa terra in questa terra e non è facile vivere per questa terra che ci dà in genere molto di più di quanto ognuno di noi non dia quindi è vero la riflessione è anche questa senti c'è un obiettivo un tuo obiettivo che forse per motivi anagrafici hai ormai inesorabilmente mancato e quindi un obiettivo ormai perso beh un obiettivo per soddisfacimento della mia vanità o della mia sarebbe quello di fare il giro del mondo in tre anni in una bella barca a vera è una cosa estremamente materiale ma ce l'hai ancora come obiettivo oppure lo consideri un obiettivo ormai perso ce l'ho ancora come obiettivo ma farà ancora per poco perché ci saranno dei limiti fisici sai andare per mare non è uno scherzo e quindi questo ancora teoricamente lo puoi fare invece è un obiettivo proprio ormai mancato cioè virgolette sei rassegnato perché non potrai più farlo magari per motivi anagrafici certo no no perché non ho avuto che ne so robe tipo vorrei essere miliardario presidente della repubblica queste cose qua non mi hanno niente quindi non ci sono mai avuti questi obiettivi dunque obiettivi che in tutto sommato hai potuto raggiungere senti con quale obiotico augurio o frase significativa ci vorresti salutare per essere da noi incisivamente ricordato per l'eternità contemplatevi 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 o contemplatemi no contemplatevi contemplatevi quindi un invito alla riflessione ognuno di noi si dovrebbe contemplare perché in ognuno di noi c'è una scintilla divina divina che ignoriamo spesso non in chiave banalmente narcisistica ma in chiave invece di riflessione su se stessi di se stessi e del divino che è in noi bello mi piace molto anche questo bene siamo ormai alla conclusione e ringrazio quindi Antonio Luigi Palmisano per la sua gentile disponibilità e per la sua grande simpatia buona vita a tutti da Roma e da Ridilci il tuo Carovigno Carovigno provincia di provincia di Brindisi Brindisi quindi nel Salento sì Salento anche quello Salento certo e naturalmente che Dio e l'universo ci benedicano e per finire 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 nello spirito della triplice valenza magica quindi ripetere tre volte uno significa che è il massimo il massimo che non si più non si può come nostra simpatica abitudine pronunciamo tutti assieme quelli che ci ascoltano viva Antonio e chi lo invitò e viva Antonio e chi lo invitò mi sembra una cosa buona grazie infinite Antonio buona vita grazie a te e grazie ancora grazie davvero a presto e buona vita ciao arrivederci